Ok, è sul cornicione. Adesso tocca a lei. Come va? Bella vista da qua su, eh? Le spiace... Le spiace tornare qua dentro, per piacere? La prego. Non vuole rientrare? Come sarebbe non vuole rientrare? Vede, questo è il mio primo giorno di lavoro, non ho idea di cosa dire a un aspirante suicida. È semplice, figliolo, vuole conservare il suo lavoro? Lo faccia rientrare subito, o non beccherà la paga. Proceda. Bravo. Faccia di merda? Sì, tu. Senti, se vuoi saltare salta, altrimenti usa l'ascensore come tutti gli altri. Stai disturbando il traffico là sotto. Ma che dice? Lei è pazzo. Come sono andato? E hai il coraggio di chiedermelo. L'avevo visto fare in un film. Ma quale film? Non si scherza su queste cose. Non so fare.